E ciao a tutti ragazzi, io sono FM Production e siamo tornati sulla serie Itacra. Come vedete sono andato un po' avanti perché ho spianato ancora qua e nel frattempo ho cominciato a piovere e ho cominciato a costruire la casa, io spero mi piaccia, ora ve la mostro. Questa pioggia fastidiosissima, ho cominciato a farla così con questo pavimento un po', sì, come si può dire, un pavimento a scacchiera diciamo, che mi piace molto, l'avevo fatto anche nel mio mondo, dove non registravo ancora, qua verrà tutto pieno di vetri e ci saranno due piani più un allungamento fino al mare, la via, dove ci sarà uno scivolo o una cosa così. Quindi ora vado a prendere la legna per finire il pavimento e vi mostro come si fa questo pavimento, quindi ci vediamo tra poco. Ok, ho preso la legna e mentre mi recco la mia casa colgo l'occasione per parlare con voi. Allora, vi ringrazio per i numerosi mi piace del video scorso, però devo fare un appello a quei tre o quattro non mi piace del video. Può essere che il video non vi sia piaciuto, perché sì, mi scuso per la qualità, perché ho il monitor che non funziona questo periodo e ne ho preso subito un altro. Quindi il video è meglio se li guardate tutti, dove spiego il perché di questo. Comunque, cioè se a te non ti piace un video, sto parlando con voi tre o voi quattro, non so quanti sono, scrivelo nei commenti, ho messo non mi piace perché, e scrivete un motivo, così almeno io so, no? E... boh... ringrazio per le tante visualizzazioni, sì sono su una cinquantina, e per essere all'inizio va anche bene. Vedete, il pavimento viene così, si mette uno sì, uno no, così, attacca, un po' di parkour, e voi mi avete detto di abbassare il FOV. Vi spiego subito che è sempre il monitor che, perché io quando vado ad editarlo, devo ingrandirlo, perché se no non mi viene l'immagine troppo piccola, lo ingrandisco e questo assomiglia è che sia, diciamo, zoomato, e per questo, quindi, capitelo. Buon taglio qui, ci vediamo quando ho finito il pavimento. Ecco, ora mettiamo l'ultimo blocco, ed è venuto sì un bel pavimento. E ora direi di continuare il soffitto, scusate per la voce, ma... è mattina, quindi... allora, andiamo avanti... comunque se vedete degli scatti è sempre il monitor, che avrà 10 Hz questo monitor, quindi ha una risposta un po'... un po' un po' strana, quindi... credo sia tipo 10 millisecondi, ma... quello che ho preso fa 5, fa 60 Hz. Full HD... 23 pochi... non so se mi basta che non andare a prendere ancora... comunque questo episodio finirò il primo piano della casa, uscirà alle 2.30 di sabato, come ogni giorno, come ogni weekend, di domenica non faccio video, perché non intendo. Ok, non so se farlo di cobblestone in soffitto. Ok, dai, faccio il soffitto di cobblestone così. La pioggia è cessata. Già da un po', ma... l'ho dito ora che... E... bene, ora comincio, vi mostro un pezzo del soffitto, poi taglio. Sì, te ne ero lì tutto. Ehm... Bene, il soffitto verrà così, ora stop e ci rivediamo tra un po'. Facendo il soffitto mi sono accorto che potrei fare una bella scala di legno all'entrata del... della mia casa. Praticamente entro... qua farò la porta, quindi cominciamo ad abbattere qua. Qua farò la porta, entro dentro qua, e da qua in su ci saranno le scale. che metterò così. Ehm... Allora, mettiamola a terra. E poi la toglierò. Questa non la taglio così ve lo mostro. Questa non la taglio così ve lo mostro. Anche voi... Ecco... Ehm... mettiamo uno qua e... Ehm... Ehm... Ah! Un tampone cavolettino. Ora toglierò tutto questo E credo che metterò Legno di betul Se volevo fare una cosetta Tipo così Non assomiglia Allora Volevo prendere due cose nella caverna E torno subito Allora Adesso ho fatto delle fame Stazionate perché non so se cosa vuol dire E Le metterei Ah che effetto Le metterei Qui Così Infero a farne altre Bombo Questo qua non mi importa Adesso finiamo Il soffitto Che io farei una cosa Di Dunque siamo prossimi Ai 100 iscritti Ci sarà uno speciale Dove regalerò Una intro creata da me Basta per vincere Basta scrivere Partecipo Iscriversi al canale Mettere mi piace al video Sempre commentare il video Con scritto partecipi E Chi vince Sarà Sarà estratto Comunque Sì Ti segui internet Ho finito la cobblestone Fermo ora Vado a prenderla Nel frattempo Ha ricominciato a provare Proprio che tempo di merda Ho preso un po' di cobblestone Perché aveva intenzione Di fare ancora un Allora ho fatto Qua è due Qua è tre Farei tre ancora qua Allora lì eh Tre Vediamo qua via Allora Tre Tre Due Non lo metto Nel frattempo Comunque Mi piove Mi piove in cosa? Io penso che Scinerò tutto A telecamera Spente E nel prossimo episodio Faremo il piano sopra Quindi vi ringrazio Per la visualizzazione Grazie per il mi piace Se li avete messi Vero? Vero? E motivate Non mi piace Per favore Che sono aiuti Costruttivi E Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.